Siamo qui con Francesco Canale di Virra Real in questo fine partita che si è concluso 4 a 2 per voi. Raccontaci questa partita. Ma è stata molto combattuta, molto intensa, agonistica, una bella partita e una bella vittoria. No, abbiamo fatto eh! Dal punto di vista della squadra, a prescindere dai risultati, secondo te c'è ancora qualcosa che si possa fare per migliorare? Sì, per migliorare la fase difensiva. La fase difensiva, ok. Però per il resto siamo una grande squadra. L'ultima domanda che ti faccio è, secondo te dove può arrivare la tua squadra? Dove potete arrivare nel campionato? Guarda, non si dice. Scaravanzia. Ok, invocatose. Ciao!